Che cazzo sono? Mani in atto! Stronzo! Se c'è qualcuno qui dobbiamo trovarlo! Vado a controllare! Continuate a cercare! Ehi, avete controllato lì? L'ho beccato! Qui c'è qualcuno! Chi sono io? Porca... Ehi, intrudo! Abbiamo un intrudo! Abbiamo un intrudo! Ehi, lì! Dove cazzo è? È nell'altra parte! Uccidete questo strumento! Dove è andato? Cazzo! Hai venuto qui? Raggiù, pronto! Uccidete! Abbiamo un intrudo! Non deve scappare! Non ti la!